Abbiamo attivato l'ITER per la modifica al piano di dimensionamento scolastico e convocato il tavolo interistituzionale con il coinvolgimento dei sindaci dell'area del Vulture. Sono le rassicurazioni dell'assessore alle politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca Roberto Cifarelli, audito in quarta commissione consigliare, su richiesta del consigliere Rosa sulla situazione di sottodimensionamento in cui si troverà l'ISIS Solimene di Lavello, a partire dall'anno scolastico 2018-2019. Cifarelli, nel ribadire la volontà politica del Governo regionale e dell'intero Consiglio regionale a trovare una possibile soluzione rispetto a una questione che riguarda studenti, operatori del mondo scolastico, amministratori locali e la comunità di Lavello, ha evidenziato le difficoltà dovute al decremento demografico della popolazione lucana. Un tema annoso soprattutto in alcune aree della regione, come quella del Vulture, ha precisato Cifarelli, e per il quale aveva già la data di approvazione del piano, sottolineata la necessità di un monitoraggio continuo. L'assessore si è poi detto fermamente convinto della necessità di riorganizzare complessivamente l'offerta scolastica, anche con la previsione di poli scolastici.